e temperature. Dopo sei anni dall'ultimo album, oggi esce Normale, nuovo singolo di Giorgia, accompagnato da un cortometraggio diretto da Rocco Papaleo, brano per riflettere su somiglianze e diversità di ogni individuo. Avete visto appunto Giorgia cantare per Fiorello e proprio Giorgia esce con un nuovo singolo accompagnato da un cortometraggio di Rocco Papaleo, Carola Caroli. Per capire gli altri e raccontarli bisogna andarsene un po' in giro e Roma, città natale di Giorgia, ha così tanti piccoli mondi da saperlo fare come poche altre città. L'artista girato per le strade per parlare di normalità e proprio normale è il titolo del suo nuovo singolo. A dirigere nel cortometraggio Rocco Papaleo, qui regista e amico tra dirette social e improvvisazioni. Dopo sei anni Giorgia torna con un singolo dai ritmi forti e profondi, la sua voce che ha sempre saputo distinguersi torna ad incantare il pubblico con quel suo modo di essere così normale da apparire sempre straordinario.